Pallone per Almiron, e il Vari si parte in vantaggio, il colpo di testa di Almiron Barreto, c'è Alvarez che va a portare via l'uomo, è un po' chiuso Barreto, cerca comunque il cross Palla dentro, Sorrentino Ancora Bari, che adesso prova a riportarsi in avanti con il cross sulle retrovie E c'è il raddoppio da parte di Ranocchia, che si porta sul 2-0 il Bari In assiste poi la Chievo con Marcolini, quindi Iepes, altro cross Il gol di Pogdani, che accorce le distanze e rende adesso molto pepati gli ultimi 7 minuti di gara C'è Ariatti che può provare la battuta, si schiaccia Ariatti, parte il cross, sul secondo palo Piazza Ventivoglio, Scilè, la palla è lì, Iepes, Lussiano, e poi ancora Ventivoglio Iepes, mischia il rugbystica Alla fine si salva il Bari, no, perché c'è Mantovari Prova Mantovari, Pogdani, manca Ariatti, anticipato Un'azione pazzesca Alla fine si salva, la fine si salva iri Grazie.